Niente mercato internazionale per Arezzo quest'anno infatti non si farà, lo ha deciso con grande rammarico la Confcommercio Aretina che valutando le enormi difficoltà di garantire il distanziamento sociale e le altre regole di sicurezza imposte dalla pandemia ha optato per rinviare ad ottobre 2021 la sedicesima edizione della Kermess che avrebbe dovuto tenersi da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. La tre giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche ed artigianali da tutto il mondo richiama ad Arezzo fino a 300.000 visitatori grazie al passaparola e al successo crescente che in questi anni l'hanno incoronata come l'evento più atteso dell'autunno aretino. Ecco un grande rammarico che ci troviamo costretti a prendere questa decisione scrive Confcommercio nella nota con cui annuncia ufficialmente l'annullamento dell'edizione 2020 del mercatissimo. Rammarico si legge per i 90 imprenditori della provincia di Arezzo che in questi anni hanno saputo integrarsi nel circuito internazionale, rammarico poi per gli alberghi aretini che riuscivano a riempirsi nei tre giorni della manifestazione, rammarico anche per bar, negozi e tutto l'indotto che in questi 15 anni hanno beneficiato delle ricadute dell'evento. Ma siamo anche dispiaciuti per la città che perde una bella festa di popolo ormai amatissima e attesa da un pubblico di tutte le età. La sedicesima edizione è comunque già in calendario per il secondo fine settimana di ottobre 2021, dunque da venerdì 8 a domenica 10.